Perché fare teatro? Ma per tantissimi motivi! Per entrare in contatto con l'io bambino, quel bambino che si è addormentato, che abbiamo perso negli anni e che dobbiamo risvegliare per farlo giocare. E quindi prendersi meno sul serio, lasciare libere le emozioni senza la paura di essere giudicati. Viene a fare piatto!